Come usare i Bitcoin Utilizzare i Bitcoin comporta alcune semplici fasi e considerazioni. Ecco come puoi iniziare. 1. Ottenere un portafoglio Bitcoin Prima di tutto, hai bisogno di un portafoglio Bitcoin per conservare i tuoi Bitcoin in modo sicuro. I portafogli Bitcoin possono essere online web, desktop, mobile o hardware. Alcuni popolari portafogli Bitcoin includono Coinbase, Binance, Electrum e Ledger Nano S. Scegli quello che meglio si adatta alle tue esigenze. 2. Acquistare Bitcoin Puoi acquistare Bitcoin da una piattaforma di scambio di criptovalute. Iscriviti su una piattaforma di scambio come Coinbase, Kraken o Binance, verifica la tua identità e collega il tuo conto bancario o carta di credito debito per acquistare Bitcoin. Puoi anche ottenere Bitcoin da altri utenti tramite scambi peer-to-peer, P2P. 3. Invio e ricezione di Bitcoin Una volta che hai Bitcoin nel tuo portafoglio, puoi inviarli o riceverli da altre persone. Per inviare Bitcoin, dovrai conoscere l'indirizzo del portafoglio Bitcoin della persona a cui stai inviando. Per ricevere Bitcoin, devi condividere il tuo indirizzo Bitcoin con la persona che ti invia i fondi. 4. Gestione sicura La sicurezza è fondamentale quando si tratta di Bitcoin. Assicurati di utilizzare un portafoglio sicuro e di proteggerlo con una password robusta. Inoltre, considera l'opzione di abilitare l'autenticazione a due fattori, due fa, e per un livello aggiuntivo di sicurezza. 5. Monitoraggio dei movimenti Puoi monitorare il saldo e la storia delle transazioni del tuo portafoglio Bitcoin tramite il software del portafoglio o l'app mobile. Questo ti consente di tenere traccia di quanto Bitcoin possiedi e delle transazioni effettuate. 6. Utilizzo dei Bitcoin Puoi utilizzare i Bitcoin per vari scopi. Alcune aziende accettano Bitcoin come forma di pagamento per beni e servizi. Puoi anche utilizzare Bitcoin per effettuare transazioni online o per l'investimento a lungo termine. 7. Considerazioni fiscali e regolamentari Tieni presente che le criptovalute come Bitcoin possono avere implicazioni fiscali e regolamentari. È importante essere a conoscenza delle leggi locali e dichiarare eventuali guadagni di criptovalute come parte della tua responsabilità fiscale. 8. Ricerca e educazione continua Poiché il mondo delle criptovalute è in costante evoluzione, continua a educarti e manteniti aggiornato sulle nuove sviluppi e sulle migliori pratiche di sicurezza. Ricorda che il valore di Bitcoin è altamente volatile, quindi è importante fare ricerche approfondite, investire con attenzione e utilizzare misure di sicurezza rigorose per proteggere i tuoi fondi. Condividi, iscriviti e unisciti alla nostra nuova avventura su YouTube.